A distanza di poche ore dalla tragica scomparsa del giornalista nisseno Stefano Gallo, un altro lutto ha colpito la sfera del giornalismo nel capoluogo nisseno. Si è spento all'età di 86 anni e dopo una lunga malattia il decano dei giornalisti di Caltanissetta, Lillo Granata, che per oltre 60 anni ha esercitato la professione. Una passione la sua che lo ha accompagnato per tutta la vita. Granata è stato per lungo tempo punto di riferimento della redazione della Sicilia.